siamo arrivati alla conclusione di questo primo video corso sulle particles in 3ds max 2014 i concetti affrontati nelle lezioni precedenti sono validi anche per altre versioni del software inferiori e superiori quindi potrete applicarli senza problemi ma l'intento primario era fornirvi delle basi forti per iniziare a lavorare con tale modulo abbiamo notato come con pochi sforzi sia facile riprodurre effetti naturali o controllare folle di elementi tutti strumenti utili e pratici che si possono applicare nella normale procedura di realizzazione di rendering o video certo dobbiamo individuare meglio il nostro target e capire come applicarli per esempio la creazione del fuoco particellare con il p array può risultare utile quando vogliamo simulare un camino o delle torce accese gli effetti a fontana e nuvole possono essere utilizzati per spazi aperti e così via abbiamo anche notato come siano poco utilizzati alcuni mettitori e si prediligano altri in particolare p array e super spray proprio per la loro naturale evoluzione ed elasticità di utilizzo non abbiamo mai affrontato il modulo particle flow che è un sistema di particelle più avanzato rispetto a quelli visti in questo corso poiché consente di gestirle al meglio in ogni suo aspetto senza costruzione di tipologia visuale e non esso sarà tema sempre se avrete voglia di seguirlo del corso autosk 3dx max particles 201 spero che il corso sia stato di vostro gradimento ma soprattutto vi sia servito e vi aspetto sempre su vfx and go per un altro conveniente semplice ed utile corso